Io da questa avventura mi aspetto di trovare quel puntino nella I, come ha detto già nel casting a Dalmine. Visto che comunque ho un po' di paura a presentarmi davanti comunque sia alla telecamera che a un pubblico, mi aspetto di raggiungere quel puntino nella I. A livello umano mi aspetto di divertirmi, conoscere tanti colleghi, condividere queste emozioni insieme a tutti loro. In questo momento sono il settimo cello, ho conosciuto delle persone veramente meravigliose, ho delle amicizie stupende, ho il giorno per giorno, ho costruito dei gruppi veramente fantastici. Sono felicissima di essere qua e di condividere con la Loop Maker Academy tutto questo percorso che secondo me ne avevo proprio bisogno. Sono veramente felice di essere qua, di fare tutto quello che ho fatto e di portare questo bagaglio importante a quelli che sono comunque vicino a me. E sinceramente consiglierei a tante altre persone di fare lo stesso perché in questo mondo non si può fermarsi, chi si ferma è tagliato fuori. E l'emozione è troppo grande, è impossibile descrivere quello che si senti dentro, è bellissimo, è tutto bello. Anche conoscere le terminologie che prima non si utilizzavano, capire veramente tanti concetti a livello anche lavorativo che non lo facciamo tutti i giorni, che non lo mettiamo mai in considerazione, andiamo magari lavoriamo a istinto tante volte perché tutto quello che abbiamo sentito qua lo facciamo già in negozio, però lo facciamo con un altro criterio. Adesso veramente hai un'altra... è come passare da un'altra parte, di una porta all'altra. È veramente una cosa bellissima quando arriva una cliente in negozio che gli fai la consulenza dalla A alla Z e tu sei sicuro che quello che insieme alla cliente costruisce viene veramente quello. Sono veramente felice, però non è finita qua perché qua è stato l'antipasto, ma ancora c'è da fare.